Le colonne d'Ercole dell'atmosfera terrestre sono state varcate da tempo. L'esplorazione spaziale procede spedita da mezzo secolo, eppure tanto resta ancora da conoscere, soprattutto nei nostri dintorni. Parliamo del Sistema Solare, otto pianeti, cinque pianeti nani, satelliti, comete e asteroidi, e naturalmente il Sole, la stella attorno a cui orbitiamo. È il nostro quartiere nell'universo, ospitato nel braccio di Orione della Via Lattea. Può dirci tanto del passato, ma anche del futuro che ci aspetta. Per questo le prossime missioni, sia quelle finanziate dai magnati delle compagnie private come Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson, sia quelle programmate dalle agenzie spaziali nazionali, si concentrano sull'esplorazione del Sistema Solare, Marte in testa. L'Italia è in prima linea per quel che riguarda il pianeta rosso. È in corso infatti la missione ExoMars. Nel 2020, un trapano progettato e realizzato dall'azienda aerospaziale italiana Leonardo perforerà il suolo marziano per circa due metri alla ricerca di tracce di vita. Servirà, appunto, per cercare la vita laddove la natura la protegge, ci spiega Maria Antonietta Perino, a capo del settore di Talessa Lenya Space, dedicato alle relazioni internazionali per i programmi di scienza ed esplorazione. Ad essere utili sono anche i dati inviati dallo sfortunato eppure proficuo Landel Schiaparelli, schiantatosi sul suolo di Marte nel 2016. Durante la fase di discesa è riuscito a registrare tutti i dati relativi alla fase di landing, import e a trasmetterli indietro. Noi li abbiamo ricevuti e li stiamo utilizzando per la pianificazione della missione di atterraggio successiva nel 2020. L'obiettivo scientifico fondamentale della missione ExoMars è proprio quello della ricerca di segni di vita prebiotica. Quindi la possibilità, mai provata prima, di riuscire a cercare campioni due metri sotto la superficie è basilare perché così in profondità le radiazioni che arrivano sulla superficie di Marte non riescono a penetrare. E quindi se sono rimasti segni di vita prebiotica da qualche parte su Marte è molto senso andarle a cercare sotto terra. E quindi i campioni che il drilling preleverà saranno trattati in un laboratorio a bordo del rover. Noi ci aspettiamo di trovare la conferma che su Marte la vita in qualche modo si sia originata, si è evoluta e insomma la nostra curiosità è di cominciare a scrivere delle pagine nuove. E una delle pagine nuove più attese è quella in cui vedremo astronauti calcare il suolo marziano. Le difficoltà sono tante, bisogna imparare a difendersi dalle radiazioni, per questo Paolo Nespoli sperimentò il giubbotto per sé o durante la missione vita, ma anche capire come fare per alimentarsi, come atterrare con payload di peso significativo e non ultimo come tornare indietro. Teniamo presente che il viaggio verso Marte durerebbe circa un migliaio di giorni, un periodo lunghissimo rispetto ai viaggi a breve raggio finora compiuti dagli astronauti. Le frontiere all'orizzonte non sono solo di carattere scientifico e tecnologico, ma anche etico. Mi aspetto che la prima domanda che tutti noi ci chiederemo sarà quanto diritto, se sarà giusto, diciamo in questo modo, pensare di far atterrare delle sonde su Marte che in qualche modo andranno fortemente ad alterare l'ecosistema marziano. Quindi non credo che questo metterà fine alla nostra attività di esplorazione, tutt'altro sarà un challenge, una sfida ulteriore per riuscire come aziende come la nostra riescono a fare a progettare sistemi nel pieno rispetto dell'ambiente locale. Nell'ottica delle nuove grandi sfide dello spazio c'è Concordia nel dire che l'ingresso dei privati sia una spinta importante per il progresso, in un momento storico in cui il giro d'affari della spesa economy si aggira intorno ai 385 miliardi di euro ed è destinato a salire nei prossimi anni. Il sistema solare, però, è terra di esplorazione, anche molto oltre Marte, o la Luna, altro oggetto del desiderio di questi anni. Questo perché può rivelarci molto della nostra origine o fornirci le chiavi per un futuro migliore. Non solo Luna e Marte, perché è importante esplorare, capire e conoscere anche gli altri pianeti del sistema solare? È importante perché la Terra è un pianeta di questo sistema solare e condivide con gli altri pianeti il fatto di essere intorno al Sole, intorno a una stella, e condivide con gli altri pianeti buona parte dell'origine e dell'evoluzione. Quindi studiare e capire gli altri pianeti servono anche a capire meglio l'ambiente in cui viviamo e che vediamo cambiare giorno per giorno. Non solo, però, studiare gli altri pianeti significa anche capire se ci sono risorse sul sistema solare che possono andare a rifornire alla Terra delle risorse che man mano sta perdendo. Importante anche lo studio di asteroidi, comete o satelliti. E in particolare gli asteroidi che, per quanto ne sappiamo oggi, sono di gran lunga i corpi più ricchi di materiali preziosi e anche facilmente raggiungibili e da cui si ritorna facilmente, visto che non hanno gravità e ripartiene da un asteroide e non richiede molta energia. Il tema è stato oggetto alla Camera di Commercio di Roma del Convenio Scienze Planetarie ed Esplorazione Umana, organizzato con Maker Faire, in collaborazione con l'Ambasciata degli Stati Uniti e la British Interplanetary Society.